Fino a qualche settimana fa, ma forse fino anche la settimana scorsa, si pensava davvero che questo regolamento sui fertilizzanti non avrebbe visto la luce in questa legislatura. Invece sono veramente felice di dirvi che non solo i negoziati si sono conclusi, questo lo sapete, ma si sono conclusi, io credo, nel migliore dei modi. Siamo riusciti a far passare i messaggi veri, la realtà vera delle cose e così siamo riusciti a mettere insieme la tutela dell'ambiente, la tutela dell'agricoltura, la tutela delle nostre meravigliose piccole e medie imprese e anche abbiamo convinto qui i colleghi e così abbiamo spalancato le porte al 50% dei concimi, dei fertilizzanti che non erano prima nel mercato unico europeo. Per fare un po' la sintesi dei punti principali abbiamo ottenuto di avere un unico limite di 60 mg per chilo per quanto riguarda il cadmio. Sapete che è stato questo il punto nel quale ci eravamo incagliati, quindi dopo tre anni dall'entrata in vigore del regolamento 60 mg e dopo sette anni sempre dall'entrata in vigore del regolamento, quindi quattro anni dopo i 60 mg, la clausola di revisione. Siamo riusciti a evitare la costosa pratica dell'etichettatura obbligatoria per chi ha un contenuto superiore ai 20 mg. Abbiamo messo anche degli incentivi sulla decadmiazione, quindi incentivazione e supporto finanziario che dovrebbero servire per sviluppare queste nuove tecnologie per vedere se finalmente si può arrivare ad una decadmiazione. La commissione potrà procedere poi per atti delegati su tantissime cose ma non sui limiti del cadmio, perché i limiti del cadmio sono considerati un dato troppo sensibile per essere affidato ai soli atti delegati della commissione, quindi questo mi sembra anche un punto molto importante che abbiamo portato a casa. C'era poi un tema che era tutto italiano, quello dei limiti del cromo. Alla fine anche qui con tanta pazienza, proprio nell'ultimo negoziato, siamo riusciti ad ottenere dal consiglio la flessibilità, per cui hanno accettato il compromesso che abbiamo proposto di mettere quindi la quantità di cromo totale solo nella documentazione tecnica. Io credo che abbiamo imparato ancora una volta una lezione. Bisogna adottare delle strategie pazienti, bisogna saper spiegare, bisogna portare gli esperti, bisogna confrontarsi con le realtà esistenti e abbiamo ancora una volta potuto verificare che noi italiani abbiamo veramente tante piccole eccellenze, straordinarie eccellenze, tante piccole e grandissime aziende che da tanti anni applicano i principi dell'economia circolare da molto prima che la commissione la pensasse e quindi il nostro compito qui in Parlamento è di far sì che queste regole che nascono così in modo un po' teorico, calandosi poi nella realtà, non vadano a danneggiare quelle eccellenze che noi in Italia abbiamo in modo così molto, insomma dobbiamo, come dire, preservare la biodiversità delle nostre piccole, piccolissime, medie, straordinarie imprese.